Luc Oriente, questa volta dovrà vedersela con un attentatore dalle potenzialità impressionanti. 24 ore per il pianeta Terra è un'altra storia, one shot, singolo albo, che parte con un'investigazione che potremmo definire quasi canonica, cioè nel senso che potrebbe sembrare quasi un albo alla Rick Rowland dal tipo di investigazione, e diventa solo successivamente ad alto tasso, diciamo così, fantascientifico. E tra le due direi che sicuramente trovo l'incipite più intrigante, mentre la seconda parte, quella che va sul fantascientifico, non mi ha, non mi ha convinto molto. Ma andiamo un attimo a vedere di cosa parla questo albo, per poi tirare la riga e dare il giudizio. Un misterioso devastatore minaccia l'umanità. E quello che a tutti gli effetti pare essere uno squilibrato, dà dimostrazioni delle proprie capacità e polverizza un grosso ponte sopra il quale in quel momento stava malauguratamente transitando un auto articolato. I sommozzatori mandati a recuperare il relitto riemergono con le tute, tutte sbrindellate, probabilmente erose da un elemento distruttivo presente ancora tra i detriti, che si scoprirà essere un batterio. Il pazzo di qui sopra vuole che le nazioni si sottomettano al suo potere, altrimenti minaccia di passare a devastare un quarto dei territori dei paesi mondiali, con la sua pericolosissima arma di distruzione. Ovviamente, Luke e Uokala si metteranno ad investigare per capire dove potrà colpire la prossima volta il devastatore, mentre il tempo scorre e l'ultimatum va scadendo. Il mistero probabilmente nasconde ben più di un semplice passo con manie di onnipotenza. E allora il tenore del mistero è sicuramente intrigante, meno, come dicevo, la parte fantascientifica del tutto. Meno credibile, appunto, sì per la scienza interpellata, ma anche e soprattutto per i rapporti che vengono a ricrearsi tra Luke e, appunto, diciamo, le controparti. Trovo davvero spettacolari le scene delle distruzioni del ponte, così come quella della Statua e della Libertà, che trovo veramente fantastico. Cioè ricreate davvero sapientemente, il metodo anche con cui vengono disegnate. Il disegno che, appunto, vede, come al solito, il suo punto debole, a mio avviso, dal punto di vista delle colorazioni. Un po' con quello classico stile decisamente agé per i tempi nostri. A livello di storia, invece, mi dispiace dire che, purtroppo, dal mio punto di vista, siamo alla quinta totale. E trovo che, come storia, appunto, sia la meno appassionante, la meno convincente tra quelle lette sino ad ora. Quindi, sicuramente, non quella da cui partirei per consigliare, eventualmente, la lettura di Luco Oriente. Fatemi sapere se anche per voi, se avete letto Luco Oriente, è così, o, al contrario, se pensate sia molto intrigante. E, più in generale, se Luco Oriente non avete invece letto, vi stanno intrigando queste storie che vi sottopongo per le recensioni. Anche per questa volta è tutto da Viper. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!